Nelle prossime ore correnti di aria un po' più fresca in quota attiveranno una diffusa stabilità, in particolare nella nottata e nella giornata di domani avremo il transito di questo fronte temporalesco che potrà produrre fenomeni temporaleschi anche localmente di moderato forte intensità con forti raffiche di vento da nord-est durante i temporali. Questi fenomeni interesseranno sia i settori appenninici ma anche lungo la fascia costiera dove appunto localmente si potranno registrare anche nupi fragi e grandinate. Le temperature tenderanno temporaneamente a diminuire nella giornata di domani e in quella di domenica seppur mantenendosi attorno alla media del periodo. Poi dalla prossima settimana il nuovo aumento dell'alta pressione con una nuova espansione dell'alta pressione africana determinerà un nuovo aumento delle temperature e il ritorno di caldo a tratti anche intenso.